Ci sono sempre molti ascoltatori che mi chiedono di parlare dell'euro digitale. A volte ho risposto, ma così, singolarmente, non attraverso un video pubblico. Ebbene, con questo video mi rivolgo quindi a tutti voi. Al momento non ne ho mai parlato in maniera diffusa, perché prima dovrei conoscere le caratteristiche di questo euro digitale. Voi sapete che Finanza in Chiaro è un canale serio, non mi metto qui a criticare uno strumento del quale non si conoscono le caratteristiche. Certo, della BCE non c'è da fidarsi, quindi è più che naturale avere dubbi e perplessità sull'euro digitale. Ma non mi metto a parlare di moneta a scadenza o cose simili. Al momento l'unico aspetto certo è che l'euro digitale sarà emesso dalla banca centrale. Tutto il resto, per ora, non è ancora stato reso noto. Come dicevo però, è bene essere scettici e sospettosi, soprattutto per un motivo. Cioè, quale necessità avevamo di cambiare l'attuale sistema monetario? Ricordiamo semplicemente così il funzionamento dell'attuale sistema monetario. La moneta viene emessa dal sistema bancario, ossia dalle banche cosiddette secondarie, ossia le banche che conosciamo tutti noi, insomma, che hanno i loro sportelli fisici in tutte le nostre città, i nostri paesi. E dalla banca primaria, ossia la banca centrale. Ma attenzione, la moneta viene emessa per la stragrande maggioranza dalle banche secondarie, chiamiamole pure banche ordinarie, insomma, le banche nelle quali deteniamo tutti noi i nostri conti correnti. La banca centrale, invece, emette moneta quasi esclusivamente quando acquista titoli dello Stato. Attenzione a non fare il solito errore. La banca centrale è il solo istituto che può emettere il contante. Quindi, vabbè, ignoriamo gli spiccioli metallici, insomma, che comunque sono una parte infinitesima. Quindi, limitiamoci alle banconote. Dicevo, il contante viene emesso esclusivamente dalla banca centrale. Ma non è moneta. Pur essendo uno strumento di pagamento, non è moneta perché viene emesso solo in cambio di moneta, che già circola nel sistema bancario. In altre parole, il sistema bancario emette moneta. Fra le caratteristiche della moneta c'è quello di risultare mezzo di pagamento. Coloro che detengono la moneta emessa dalle banche prettamente in forma elettronica, cioè quella dematerializzata, insomma, possono, diciamo, farle avere una veste differente fisica ed in particolare cartaccia e questo pezzo di carta mantiene la proprietà di risultare mezzo di pagamento. E allora chiediamoci, perché tramutare la moneta elettronica in banconote, visto che sia la moneta elettronica che le banconote possono essere utilizzate come strumenti di pagamento? Beh, perché le banconote hanno anche una caratteristica peculiare, sono infatti l'unico mezzo di pagamento al portatore, quindi anonimo. Torno un attimo sulla questione che, come vi ho detto, le banconote non sono moneta, affinché possiate così evitare di incorrere in questo comune errore. Potreste infatti erroneamente pensare che se le banconote sono solo una veste differente della moneta elettronica, beh, a loro volta sono moneta. No. Dovete soltanto fare questo semplice ragionamento. Ponendovi questa domanda, quando vengono immesse sul mercato nuove banconote, si aumenta la moneta in circolazione? Eh, ovviamente la risposta è no, perché all'atto dell'emissione di banconote la moneta in circolazione viene contemporaneamente ridotta dello stesso a montare. Pensate semplicemente, avete 500 euro sul conto corrente, prelevate contanti al banco, ma supponiamo per 200 euro. Ora, avete 200 euro di banconote in tasca, ma sul conto corrente non avete più 500 euro, bensì 300. Quindi le banche ordinarie, attraverso il banco, ma diciamo erogano banconote emesse dalla banca centrale, ma questa operazione non produce un aumento della moneta in circolazione. Quindi non c'è una nuova emissione monetaria. Naturalmente questo concetto, ecco, vorrei che fosse davvero acquisito da tutti voi. Ah, qualora vi venisse la curiosità di chiedermi e allora se le banconote non sono moneta, cosa sono? Beh, la risposta è semplice, sono titoli di credito al portatore, se vogliamo aggiungere anche che fungono da mezzo di pagamento, ma sono titoli di credito al portatore. Sono titoli di credito che non hanno un rendimento finanziario, insomma non è che detenendo delle banconote si ha diritto ad avere alcun interesse, e sono gli unici titoli di credito che sono davvero rimasti al portatore. Le banconote sono emesse esclusivamente dalla banca centrale anche per una questione di praticità. Così sono uniche, diciamo, e più facilmente riconoscibili. Se tutte le banche ordinarie emettessero dei propri contanti, ovviamente diversi fra di loro, sarebbe tutto molto caotico. Insomma, per avere un esempio, le persone non più giovanissime ricorderanno i mini assegni emessi un po' da tutte le banche. Beh, noi li accettavamo, ma perché avevano un valore estremamente basso, cioè sostituivano la moneta metallica. Ma se fossero stati emessi per importi elevati, come quelli delle banconote, diciamo, beh, capite bene che ci sarebbe stata una confusione pazzesca, insomma, e la difficoltà poi di capire i falsi, e non ne parliamo, insomma, avete capito. Torniamo alla moneta digitale emessa dalle banche centrali. Sappiamo che, così, in assenza di ritardi, la BCE dovrebbe terminare la fase di sperimentazione il prossimo mese. Quindi a breve dovremmo anche sapere qualcosa di più. Ma sappiamo anche che ci vorranno anni prima che si possa pagare, diciamo, con l'euro digitale. Alcuni parlano di cinque anni, ma altri di dieci anni. Quindi, insomma, diciamo che l'utilizzo dell'euro digitale può essere, così, collocato temporalmente tra il 2028 e il 2033. Nel frattempo, magari, va bene, insomma. Tuttavia, guardate, tornerò abbastanza presto a parlare dell'argomento, perché si dice sia proprio una rivoluzione in campo monetario. E sappiamo, purtroppo, anche che non tutte le rivoluzioni portano a dei miglioramenti.